venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto promuovo soprattutto la voglia di emergere e la predisposizione al lavoro dei ragazzi gente come favasuli e derosa non hanno saltato un allenamento e sono da esempio questo è importante in un gruppo che si sta formando una cosa è certa che chi arriverà dovrà essere disposto al sacrificio il nome tanto per accontentare tutti non conta sono parole rese dall'allenatore della cavese giacomo modica attraverso il sito ufficiale della società metelliana il mister che è anche il secondo siciliano a guidare la cavese dopo paolo lombardo che era stato a cavare i tirreni nel 2000 auspica anche che tutto l'ambiente possa rivelarsi quello giusto per consentire al club aquilotto di ottenere risultati e togliersi delle soddisfazioni modica ha avuto carta bianca nell'individuare i calciatori adatti al suo modulo 433 alcuni di essi vedi rosafio bruno manetta e migliorini sono stati già messina con lui altri come agate e gomez lo ritrovano dopo un po di tempo non verranno tesserati tutti i giocatori che stanno in gruppo lo stesso mister mette in preventivo anche il fatto che possa essere necessario qualche ulteriore rinforzo in questo caso il direttore pavone è vigile ma al di là dell'aspetto tattico conterà soprattutto l'effetto che la preparazione fisico atletica darà sugli atleti infatti questi ultimi hanno lavorato su carichi di lavoro importanti in queste prime due settimane non solo forza ma anche la giusta alimentazione in modo tale che la squadra possa avere benzina nei muscoli e capacità aerobica per venire più fuori quando certi avversari avranno dato di più in termini di energie l'obiettivo della cavese come società è il ripescaggio in serie c e in questa categoria chi corre di più ha le maggiori probabilità di fare risultato pieno questo pomeriggio alle ore 18 per la cavese era prevista un amichevole a sturno dove la squadra continua a rimanere in ritiro fino a domenica i metelliani affrontavano una selezione locale in attesa che arrivino test più probanti che verranno organizzati col tempo ma non va dimenticato che in caso di ammissione alla c la cavese giocherebbe due partite di coppa con altrettante avversarie di pari categoria entrambe nel mese di agosto prima della partenza del campionato